prende ma anche aspetta che ci sono allora non c'è modo per silenziali mi senti posso startare si ti ho detto si puoi startare tom se t'avvicini a me ti giuro che ti 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 faccio fare un volo di 800 metri no non miagolare allora obiettivi non posso parlare manco sento la mia voce ecco ma perchè non lo abbasso allora in coppia è difficile se ci riusciamo disattiva estensione allora disattiva estensione switch ciao ben mac buongiornissimo alla tua assurdato le mie estensione disattivo disattivo bazzardi di odio marius e già non ho mici nella vita vera mi chiedi pure di trovarli in un gioco ma guarda è il mio amico amico i gatti di stray oh quel gioco bello bello è le prossime appena inizio cioè ora ma comunque quel gioco lì molto molto carino mi è piaciuto eh l'ho visto da mitre ma devi guardare cosa è bravo inizio che si deve disinstallare glitch dai ceffolo ma dai che non c'è una cosa voglio dire che c'è una cosa amico vieni amico vieni perchè non mi fai gli spray ok come gli spray ti allancio sulla zona di guerra non mi feceva i gesti ma non ho capito non lo so cosa è ma è un po' freddo amami come non hai amato non hai amato nessuno mai ma adesso Alessio vuole scaricare Twitch Chef non ho mai amato io eh no all'inizio non possiamo non confermare eh dobbiamo arrivare in un punto dove siamo solo in quattro capito non ti preoccupare non ti preoccupare Michio restati 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 mi prego ci ha tirato un bombardo ci ha attaccato appolo NOOOOOO è morto 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 sei morto dai ce l'ho quasi riuscito pure l'arco Ma sembra l'educato Questo qua era scandalosissimo Amami come ami il ventilatore e il condizionatore in questi giorni Minchia c'ho una pala sopra ma ragazzi la sto odiando perché non cambia niente Io sto morendo di caldo Mannaggia e qualsiasi essere vivente Oh ma sto camper di mer Ti spacco il culo Scappa Mario Minchia c'è amico Eh amico Abbiamo un loadout Beh il loadout l'hanno appena fatto qua sotto davanti a noi Quindi non so quanto ci convenga Ma per me li faccio amici Ma apprezzo questo tuo ottimismo Facciamoci tutti amici Giuro ci sono riuscito con l'ho passato Marius sei tagliato In coppia è difficile Perché sei lì? Arriva le due Vieni da me in piscina E ci rinfreschiamo la vicenda Ma come facciamo a rinfrescarsi la vicenda? Scusami Se fa caldo Stasso le dos Scusami Ma stai ancora cercando di farti amici nemici Eh uno mi stava facendo E si è fatto in confermata al bombardamento Vabbè quello lì potrebbe anche lasciarlo lì così Eh ce n'è uno qua Vabbè me li hai nientati entrambi C'è un amicio L'ho trovato L'ho trovato C'è un amicio Ha atterrato uno Ma si è confermato La gente non si sa divertire Adic E' questo il problema Si sanno divertiti Si non sanno giocare Se io salto è più delle corazze delle cose Puoi fare amicizia Non è più 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 Ah la faccio qua in singola dai Allora qua lì dovevo scoppiare Fa più difficilissimo da fare Ho una donna sicura per voi E' chissà micio Allora qua lì Non so cosa è Ma È un po' difficile Niente non c'avevano nemmeno questi l'autoress Ma che parli Ah no ma queste erano cattive Hai fatto bene Ma che Questi non sanno giocare Grazie per la condizione di Giuseppe Come andiamo? Questi erano degli scostumati Dei cattifoni Dei marrani Chi è? Grazie Roby Grazie per Prime Roby Quante? 6 metri Grazie Roby Che cazzo di caldo raga Torna immergimi a pensarti mentre mi trasfullo con l'aspirazione della piscina Allora non so come lo dobbiamo fare No vabbè difficile Glielo facciamo arrestare gli diamo pure i soldi Dammi un po' di soldi Dammi un po' di soldi No guarda se vuoi Andiamola a cercare uno che è in singolo Dammi un po' di soldi Dategli la cazza Va bene va bene va bene Che io lo faccio arrestare l'amico Cioè Mario stiamo facendo sta roba qua Nella partita in cui sto hitando gli shot più assurdi Eh non so E' così eh Guarda questo qua Questo qua è la torre No te 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 Tu vai a lui io vado all'altro Vabbè Perchè Sono in due sono in due sono in due Perchè Dai amicio Vieni amicio Attento che l'ho fatto Vieni Soldi Il mio marito sono proprio minuto Ti prego Fa che ci riesco RESTATI A CO Ma Non c'è da me Ma come te sai che te ne devi fare Non aveva l'autorresti Come si fa? Su dog Cioè io dovevo fare amicizia Ti ho lasciato per 6.000 niente In effetti il tuo medio vai stato Intensibile Quando cerchi in un gioco di sopravvivenza di far sopravvivere gli altri Mario Mario Classico siciliano che cerca Che cerca Che cerca soldi alla gente No no che do soldi alla gente Credo intendessi quello Un amico Un amico Amico Non proprio amico mi sa eh Ma metto pure la mina fa tanto Ero in due 3 2 1 Tanto fammi fare Sento a come parli dei siciliani Ma ho letto la chat io eh ragazzi Che cazzo voleva Lui non parla di siciliani E poi lui non parla di siciliani In me Questi siete chiamati in caos Guardate subito sulla difensiva questi siciliani Allora aspetta devo comprare Vabbì Minchia non ce la faccio Che io il tuo equilibrio per fare il cretino E la gente non vuole fare la mission con me Di sicuro Mi devi chiu Nooo Non hei f �erro Ti sto corteggiando Harley Nooooo Bastardi guardi come potete ma scusa quella è la sua testa questo è cattivo quello della torre è cattivo quello della torre ha una faccia di culo che hai spero che si faccia una scoreggia pesante nelle mutande ma chi cazzo giorgio f ma che grazie per il like ragazzi ma io e te eravamo amici maleducato no saluti sono cattivi non sanno giocare vai vai bravo aiuto aiuto perchè sono cattivi no no basta micio perchè non ci rinasciamo tutti cosa ci fa a tutti la lobby è cattiva adio istri c'è a fare un culo va no vabbè lui non c'entra nulla sono riuscita a far penermi manca soli non c'è c'è io ho fatto un game di merda a fare amicizia mi spavano con le rifi come c'è la taglia addosso me ne sono accorto adesso non so neanche io cosa sto facendo volevi aprire la camera dei segreti come si fa quelli sul tetto possono anche scorreggiarsi addosso tra di loro oggi c'è la cattiveria in corpo non ce l'ho non ce l'ho più era a te no era il sensore aiuto adesso sei negli ultimi 5 fantastico nuova zona sicura bello dai gioco del guarda vedo gli oggetti attraverso il fumo che cazzo è l'ho visto pure io no niente di utile qua però che inculato basta seri questa partita è possibile fare coppia non la posso fare devo fare il single devo fare due amici scendo star star se li uccido a tutte e due non li confermo cioè le afferro e devono diventare amici come non succede magari cosa non succede ma comunque è sono troppo forte per questo gioco ma questa merda di arma non sopportabile te la compro poi a salire alla volta non so se sei ben tempo questo è che 100 euro e la? quanto costa? chi fa il bravo? gaspaccio fai il bravo eh? cosa? è una macchina di ventenco lascia stare che ho il dolce forno al posto delle mutande e due calda rosso al posto delle palle buon pomeriggio buon pomeriggio te Nico giornata un po' calda vero? vabbè ma in realtà è calda perchè ci sono io ragazzi non c'ho nulla da fare dai 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 volta abiettivo win è spacca tutta la loro ma va vangu marius li stai prendendo a pugni? l'ho caccato di la è la porta e lo so ma brutto basta Miki attenzione grazie per il like carmelo grazie per il like anche te ragazzi come state? ma ventispect chi è arrivato? chi è arrivato? è arrivato qualcuno per forza sul tetto ce n'è uno si è sceso adesso per sapere com'è che lui mirava lì se ti uccidono adesso l'operazione fallisce attenzione ok qua è già tutto lootato sono messo benissimo ho sentito qua più avanti qualcuno ha preso il dmr eccolo hai ucciso te eh? tizio col dmr c'è gente qua sopra di me trovate alla prossima destinazione c'è un soldato nemico ma che cazzo faccio qua? la torre di comunicazione nell'area aggiorna il nemico sulla vostra posizione ma dove cazzo vai? fucking idiot why are you coming to me? fucking idiot why are you coming to me? fucking idiot why are you coming to me? sto incominciando la misura di avermi trovato una sauna eh lo so oh lì qui finì il 3 attacco in corso oh forse sopra palermitano uno lo avrà il navo tu amico palermitano marius che trova i suoi simili vieni non ti sparo giuro non ci sparare amico mio no non gli sparare bombardamento non gli sparare lui mi ha tirato un bombardamento addosso tu non gli sparare è gentile è simpatico l'ho ucciso mi fa eeeh un cazzo però l'ho ucciso mi fa l'ho ucciso mi fa eeeh un cazzo però torre di stronzo chi è stato? ci hanno spottato hai visto? ah no mi hanno sparato no mi hai bloccato no 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 ok così ingia ci morivo così che ridere niente più amici anche che c'è qualcuno che ci stava cecchinando non ho capito da dove veramente uno di quei posti di un merda no no da dietro da dietro mi è arrivato ah si quella è stronzo giusto io vorrei vendere questo partello ci sarà per fare la live alcoli l'ho visto è sceso ma dove sono scesi giù in fondo hai visto uno stronzo lì si si sto andando lì l'ho visto preso una volta ce n'è uno che è sceso lì davanti a te a terra sopra a terra sopra sali marito sali ce la fai? ok ok va benissimo dove sei? ti rendi conto aspetta aspetta io come pusharlo mi ha tirato un bombardamento che maleducato non si fanno ste cose si si sono proprio try harder belli tosti questi eh c'è noi stiamo proprio nel circuito totale tranquillo proprio per libera niente questa è la mia specialità questo è so come pusharlo mario sei vivo? sei ucciso? la maschera ecco pua 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 eh eh potremmo andare? si si ah io sto già andando via solo fanno i cattivi e noi facciamo i il problema è che quando noi siamo cattivi siamo dei cattivoni bierbantelli bierbantelli siamo dei marroni no ragà io ci do provare sta cosa farmi due amici il prossimo bierbantelli e ne scappare però c'è nel senso faccio sti shot qui e poi la gente è in cima ai tetti quindi non la posso neanche confermare ma mannaggia a me ma io posso avere tutta sta sfiga? oh torre 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 come cazzo l'ho visto neanche lo so io braccato ok sei ucciso da solo quello perfetto non quella torre eh quella torre ancora vivo finalmente uno streamer che non urla più o meno carmelo eh eh ci fate eh stanno facendo ca... giochermelo eh c'è una punta c'è fatto casino mario si ha tirato un UAB c'è un elicottero che ci passa dietro io l'ho buttato l'UAB si lo shop c'è ancora qua dietro perfetto perfetto ci sono i saldi comunque eh ti lascio giù i soldi ok fa niente mario si ho preso un bombardo ho preso un bombardo ritorno sta per finire chiesta del piazzata sulle spavere salti terminati presti tornati alla normalità dove sono mario si quelli sopra di te arrivo chi è? mecca regata ragazzi aiuto mario si mario si sono morto non uscire c'è una mina sono sopra di te sta mirando sta tenendo me tanto ho atterrato uno ma vado a sparare a quello mi sembrava coricato giuro provo a farti restare ma che stupido grazie secolo ho 36 di nuovo te mi mangi quattro mi mangi c'è il capello? è mi muto sono un po' di sfogli eh ok arriva il gap marco la nuova zona sicura i rinforzi sono in arrivo eh alè ma che cazzo stiamo facendo? io sento piatti che vengono su pacchetti cos'era? cos'era? era una piatta quello nuovo non glielo lo dici io non ci credo cosa? non c'è mario se la da solo poi ti lanciamo un bombi no vale ci sono cose più vai lanciamolo lì ai cannoni tra poco che voglio... voglio chiudere quelli che campereranno lì sopra oh cazzo vai vai tiralo noni qua dove sono un po' più avanti dove sono io a vale ce ne è una adoro adoro devo morire amico muo rire mi pucia mi pucia ai ai sono bloccato oh schiappa siamo morti lo sai vero? no no guarda qua madonna mia mai succede sta cosa eh aspetta non fightarlo così a cazzo dov'è è sceso vai vai ce l'ho ce l'ho in teoria io 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 stai fermo stai fermo stai fermo puxariti ciao jo come stai ero lì pronto a rubartela mi sono fatto un anicio e poi non ci siamo più riusciti all'ho spacciatela cosa non era quello si era il game di prima allora allora è una cosa grave tu non puoi senti oggi a quello che dici perché giro tutta vale caffettino e cornettino l'ha spremutina dai cerca sta partita uomo spremuta fuori foto e audio mario e vale a momento ogni cosa tempo debito ogni cosa tempo debito mi devi chiedere come ogni tanto tolgo l'audio perché sente mario che dice vale du du da da capito e lo deve far sentire francesco grazie per il like il porto il curriculum cerchi personale e non faccio un casino che cazzo mi tocca giocare ragazzi con che cazzo mi tocca giocare cioè ma vi pare normale il bastone è tipo così cazzo si è bloccato tutto ciao corri eh 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 prove io c'ho prove col culo a gallina e la bocca eh 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 decolo che mandi le foto e fare questa foto fa ti arrabbiato che cazzo devi che zitto 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 spremutina zitto zitto parlo ehi c'è un valore manco pagato la donna il tizio che ho ucciso l'ha tipo spaccato su tutto attenzione in alto e chiedi ma come c'è chiedi ma vale dico solo che la dominanza lo sai come la chiama c**o a coppa UEFA ho detto tutto ha detto Mario guarda su c**o a coppa UEFA ho detto ma di solito si dice c**o a pesca no? coppa UEFA la coppa UEFA? com'è la coppa UEFA scusami Luca bella ha capito? bella io so che sei un cretino che paura ho le prove ho le prove ti pianti stasera anzi facciamo live dove Mario senti questo qua fate tutti i bravi perché io vi seguo tutti e ho più telefoni disponibili per streammai per armi quello lì c'ha 80 schermi sul muro Nicolò c'ha 80 schermi sul muro e ogni volta analizza chi c'è in partita così può streammaiperarlo c'ha tipo 80 live diverse aperte drin come vuoi qua come vuoi stare不att' oppure controile combino su di me marius è rotto ma io ti voglio bene no marius 10 secondi un cuoricino c'è quello che sta facendo la presentazione della barbara da barbara d'urso intanto devo giocare io quello che fa signori c'è la lettera per lei anche poi quella non è la maria de filippi quella della lettera dice apposta per te chi sta un scema che pirla che marius ragazzi che pirla pirla ma guardate cosa mi raccontate ragazzi come va come la va allora io qui già l'avevo pronta visto che lui mi sta dicendo di uscire l'epoca ecco quello lì adesso sta parlando sta facendo sta facendo come si chiama forum sta facendo forum lui peggio si prega tutti in piedi per il giudice marius si prega a tutti di alzarsi in piedi e salutare il giudice marius mi compro per il martello come dice lui e faccio forum a sberle sulla scrivania rifare ma posso fare anche quella cosa però vale 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 c'ho delle prove vale io sape già mi ero preparato tutto questo perché stai faccio vedere oh chi è ok ma che tutto è vuoto a mo a mostro non di cacchiate dai qualcuno riuscirà a se mi non è aperare no ho stampato le foto di ciò che mi manda c'ho pure la conversazione alle 21 e 30 non mancato ora non posso dare appuntamento non posso dire niente e la busta bianca la busta nera e la busta gold la busta gold ragazzi dovete aver paura quando tira fuori la busta gold eh e cosa ho fatto io no per scherzare sono bollette no 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 le bollette no non è casa bianello questa non è casa bianello casa bianello qua bianello non è bianello qua è massimo forum e ho live non è marius non ho felice qua spettacolo intanto sei mutato è vero io una foto l'ho vista ah ecco l'hai visto va a lei perché ti è palestra vedila guarda cioè non sai che è palestra lo difende sempre ora non hai più nulla non hai più difesa no ha visto la foto e dice ma chi è questa mi ha mandato lo signore e dice ma chi cosa ti mando? mi sto stampami sta foto mi spiace ma non c'è più protezione per una questione del genere eh una volta che succede oh ma io t'ho atterrato che fai? via su la cordicella quello eh vieni vieni fai lo da guarda io al mio amiccio io lo dico questa sera alle 21 non manca live non è bravo live non è mai guarda quello si spamma si spamma nella mia live pensa a te no perchè spamma che può essere? ha arrivato un metro si può si può marius 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 dove cazzo sei? sono davanti a me no non mi interessa dio caro ma io perchè gioco con questo che mi fa giochiamo in serie e poi finì sono lì che fai tutto da solo mi chiede il drop e se ne vai per i cazzo suoi perchè deve parlare ma vaffanculo vaffanculo stai la tua chat infine almeno ogni tanto sai sparare tu la mi attozzona non la tocchi hai capito? e ne è così ti prego non dire mai più una roba del genere da bolcecchino ragazzi da bolcecchino così facciamo? da bolcecchino facciamo un po' di un po' di stavamo dicendo che quello senza di me non sa giocare allora pensa a te stu faccia di culo stu faccia di scoreggiona ehm via via questo io no ciao vero come stai? compagno rifornito per un attimo mi hai fatto caccare in mano ho detto ho pensato di aver ucciso qualcuno invece era compagno rifornito io non l'ho fatta col coltellino così hai kill? c'è uno qua davanti? mi fa piacere dai io ci aspetta dove vai? qua 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 sceso a sinistra dai e uno e uno e uno sta cazzo di è sopra 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 tutta marius è rotto quitta se tu sei tu capo della l'ultime tre ultime tre ultime tre cose quello è quello che mario se non ha non so se avete letto il nome di quello questo è quello che mario che non possiede dove ecco decoro mi dici di stare zitta mario chiudi quella cazzo di bocca chi è che l'ha detto chi è che l'ha detto non è un tuo problema non è un tuo problema se costei non vuole essere esposta se costei non vuole essere esposta non l'espongo scusami che è mai educato che sei mario io non ho parole no non è Vanessa vale mi deve dire lui a me con la coppa UEFA guarda questa coppa UEFA Vanessa vede la foto si incazza e dici ma chi è questo me l'ha mandato a snack non dico che è questo ah ok anche nel momento nel momento in cui compare il suo nome ti deve venire a ok va bene comunque ragazzi se non l'aveste fatto l'idea dice vero che non la segnaliamo dai allora dove eravamo ma perché devi farla da bene così a vale che lei non sa ma startiamo o startiamo ma chi è che scherza aspetta vabbè io mi mangio un gelato va tutti qua serviti riveriti io invece sono qui in questa camera dove ci sono 43 gradi c'è un ventilatore sopra che non fa altro che spingermi addosso l'aria calda e mario si ha appena messo like appena messo like a sto strunzo gli ho regalato una sub e non mette nemmeno like alla live che faccia di merda che faccia di merda che faccia di merda questo marius un merdo di umano guarda l'è venuto a controllare si infatti tra l'altro ha messo like marius solo perché veniva è venuto a controllare chi ha scritto di amare di stare zitto si me l'hai messo dopo un'ora che giochiamo insieme bastardo va a cacare non arrivano le notifiche 1 cioè io il telefono così no 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 marius tu non ti difendi adesso dopo questa offesa nei miei confronti ti devi solo scusare non sa bravo allora scusami scusami non volevo i vari cancellate snake leggi quel commento data prima che lo cancello si non ho già detto lo faccio più niente dai startate startate Sì dai stai visto staiuto tu con dudu e data staiuto che ci sembra che sta parlando con quella con quella coppa UEFA ma chi è in italiano ma ti stai parlando con le arance che trovi a terra 9 alle 21 stock busta bianca e busta oro e prova di culo a coppa UEFA di snack fatti dire che bel regalo che le faccio per il compriano da vale non me ne fotte proprio tu mi mandi i culi e mi fatti litigare con mia moglie maniaco povera mani gli faccio stare io ho fatto stampare vanessa gli hanno detto no ma devi stampare devo fare lo scherzo e glielo faccio vedere io ti segnalo ah guarda come minaccio vale quello non mi intere può segnalare e Mario non parlare così a Brambo ma è vero ma diteglielo cioè nel senso è maleducato Mario si comporta da scostumato questo birbantello chiedo scuse non volevo Mario non volevo niente Brambo eh quello che mi ha mandato è atroce cioè onestamente merito mandami qualcosa che ti ha mandato voglio ridere un po' in privato in privato però in live non ti deve oh però non lo devi mostrare in live no ovvio che non lo mandi in live ti pare che faccio vedere qualcosa che mi ha mandato da snake in live ma infatti cioè vorrei anche dire vorrei anche dire è già bello che ogni tanto ci gioco assieme senza essere bannato neanche ti voglio bene cosa ha detto cosa ha detto quello scemo so benissimo che ha detto qualcosa su di me ahahahah ay sto morendo ahahah mi arriva un minac現在 du WhatsApp ah ééni sto morendo sto morendo ragà ahi ahi sto tommo arremmo ma, ma ne lo que è sto tommo 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 oh caro si sta divertendo qua sopra io mi dissocio da tutto quello che ti sto mandando dubito fortemente però sì ok perché mi ha mandato dito 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 tato no capito dito brambo ahahahahah cioè soffoto da mandare dimmi tu Dudu hai sbagliato Dudu e io che pensavo fossi un amico no Dudu hai ragione comunque vero povera Vanesa guarda cioè spawniamo e abbiamo subito sta caccata mi pusho mi pusho sto camper di merda io te l'ho sticcata no meglio non guardare ragazzi se no cosi uscene allora Snake non è che io non sono un amico tu mi hai fatto desiderare con Vanesa per tutti ma che cazzo sta camper camper di merda fra sei il peggior camper che abbia mai visto non riesci neanche uccidermi che sono sdraiato a terra ciao no Mario sei sul tetto sei sul tetto non ci vedo ah giusto io stavo fingendo di darti le call out così almeno ti giravi per exploit per farti vedere a tutti che città no fuggisco maleducato mi hai spaccato qualcosa eh ma si vabbè è un insulto così leggero in realtà per loro camper di merda ma le sberle ti do le sberle mi si che si è messo a ridere che 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 Ok, siete vivi Ok L'ha fatto pure a te Resta le 8 La presenti? Non c'è insieme Helen La presenti? Non c'è insieme Io vado a stand Morto Male, perfetto Non era contento questo No, l'ho fatto Mi ha ucciso il fuoco Lei ha ucciso il fuoco? C'è un altro qui Su di me Qua Marius Si, stasera ho fatto valdoria Forse sono fuori Ma non lo so ancora Se non vado Se non vado fuori Volentieri Cazzo a giocare un pochino Nicola Grazie per... Nicola Grazie per il follow Che bello Massimiliano Grazie per il like Tanti bacetti a voi ragazzi Scostumato Questo l'ho sentito Ciacchi Come va Ciacchi? Comunque Snack Sto fatto che vi fai la videochiamata E c'è il solito caffettino Come si chiama? Io lo chiedi per... Sono curioso Ciao Gianni Vale, possiamo sapere come si chiama Sì Arrabbiata Stiamo a chiedere come si chiama Il solito caffettino Caffè Uchi Ma da me che cazzo vuoi Mario? Sono buttato in piscina Comodissimo Guarda questo qua come flexa La sua ricchezza Il nostro Ciacchi Ecco poi Il nostro Ciacchito Il caffettino Lo voglio dare So curioso come si chiama Ti voglio dare un nome Come il tuo caffettino Non la posso chiamare Se no ci inventiamo un nome Hai tempo 10 minuti per dirmi il nome Che ora è? Poi ti banno 17 e 56 E 4 Da 8 minuti Voglio sapere il nome della ragazza Ok Ok Tanto vale non è Il nome che c'è di male Vale no? Vabbè come Mario Che è geloso di qualsiasi Ma cosa t'avana Mario? Non lo so Sta Sta parlottando tra se e se E' puramente E' puramente Follia Pura follia Con vale Allora Io non sento quello Che cazzo Mi dice quello Aspetta che quello Mi flexa A me Così non mi fa capire Che mi dico Flexa Ma quale ricchezza A sapere di queste clienti Sono molto curioso Io non posso avere solo le foto delle clienti Voglio associare un nome E non mi fa stessi Ah Raffaele Grazie per il follow Come andiamo Sì Ui Ah Ui Ui Mi fa una minaccia Ora stessa C'è c'è una catena Ah vale così Va bene Tic fai bene a fare Fota quella col culo così Fai bene Ne voglio due Nooo Non ho sentito, chi ha mandato 10 sub? Sound Ah, è cosa? Non ha capito, Marius Marius, se provassi a comunicare in un linguaggio a me comprensibile potrei aiutarti No, non ho capito neanche quello Foggy, ora prendo le foto che mi mandi pure tu e mi manda la foggina Ma ti prego non mandarle quelle lì, per favore Ora minaccia a tutti, ora minaccia a tutti, dai Meno male che sono la persona più pulita in queste cose io Cancello tutto, mando le storie di Snapchat io Ma che paura Ma mi ha ucciso Martin Luther King Perché la gente ha sette l'armi così a minchia? Guarda, non lo so, ogni tanto vedo del... Ma anche i loadout è quelli che trovi già fatti a terra Sono finiti gli audio, Mario Ma lei vuole sapere con chi esce Snake? Eh, Snake? Eh, chi è che non vuole sapere? Eh, ragazzi, ragazzi Grazie per il like Guarda, io, io, io so tutto per il semplice fatto che Apro il telefono e mi compare una storia e dico Ah Di vale, se... Beh, davvero Di chi? Scusa? Eh, va bene Di spoiler Guarda te Guarda, nemmeno l'hype riesce a fare Lo scoprirete stasera e poi lo dice subito No, no, lo dico Stasera ci sarà per una rivelazione shock Da live non è Mario E droga fanno male Qualcuno me lo banna, ragazzi Me lo silenziate Eh, droga, eh? No, mi distorce da un tipo di droga Eh, tu gli devi dire a tua fidanzalato Che la svetti a mandermi foto Mi manda, poi mi fa litigare con Manessa La colpa è sua Manessa vede il suo culo a coppa E mi dice ma chi è questa? Guarda che furbo è quello Nel gas lo lancia Ma come si fa? Dico io Mi distorcio da chi gioco io Sì, vabbè, sono entrambi nel gas Mario, cioè, nel senso Vorrei anche dire Sì, ma è lanciata la faccia Io no Oh Oh No Non ora Mi buscano Alla, Marione, buonasera Ciao Aldo Oggi ti gioco No Ciao Aldo Cazzo, se ci sarà la pizza shock Stai cazzo di ciringhe e quel camper di merda Tu scoppia su TikTok Sì, Dudo e Dada fanno schifo pure a me Dudo e Dada? Fanno schifo pure a me No, non è vero No, tu, tu Eh, vale No, se che Dada è Vale, il primo erano Carino e scolosi Ora sono Dudo e Dada Qua c'è qualcuno di Aspetta Sì, non è vero Ma guarda sto camper di merda Ma è arrivato un nemico Attenzione in alto Ma è la mia prediction Mi piace camperare, ah Aiuto Ma sono fortissimo Ma sono fortissimo Foggi? Ah, il buon Foggi Ma io lo conosco da tantissimo Foggi, eh Siamo stramici Ehi, è abbastanza bene Chiocano Carmine mi hai distratto Maleducato Mi hai distretto Grazie per lei che fa Lu Mi tocca sete delle merde Ma tu di più Non mi dissocio La mia affermazione Tu c'è una merda Punto, eh Per chi non avesse capito Stava dicendo bio Nel senso biologico Sì Perché ovviamente Allora Allora Sì Per chi Per quello che ha scritto Sì Ups No Sì 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 Hai capito Sì Allora Tu Foggi da Foggi Stavo confermando La cosa di Brambo Fuggi da Foggi Ma non per Foggi Per vitellate Eh A me pure La tre settimana Ma lo trovo col cardio Camperata bio Con 13 kg Lui e 13 kg Io Stavolta posso Foggi La casetta Ups E non va bene adesso Sono un feso Comunque Stasera Volevi andarti a prendere Una spremura Una spremura Dimmi la verità Ah Ah Guarda quelli lì che parlano Nei codici degli sozzoni Parlano Il bel curriculum Il bel curriculum E anche a che la lina E il composizionatore Una spremuta di luppolo Eh Vale le prove Se vuoi ti mando un assaggio Della foto di chi mi ha dato Sto laggando Ok Mi pare cappello di opaio Che quando lo chillo Dice lagge Viene la camperata A terra di tua scrivania Con il caldo Sto laggando Come cazzo vedi Che lagge Con il caldo a terra E lei è uguale Quando gli parlo E cerco le risposte Le lagge Sulemane Milano Allora Ale Dopo ti mandavo Su telegram Però Un assaggio Ti faccio vedere Solo le gambe Nella ditta Solo le gambe Bene Con le scarpe Per sì Tra l'altro Per quelli che sono entrati In chat adesso C'è Welder Che ha fatto il comando Comments E c'è tra uno Dei comandi C'è il comando Cheat Allora Siamo tutti calmi Ti sta gettando Perciò Foggy Tu non sarai situazionista Sto prendendo la prova Che il tuo finanza Lato Mi manda le foto Dei culacopal Io però Una volta L'ho chillato Chi? A Foggy Sì Abbiamo a Foggy Un bot Ma mi manda a cacare Mi è chillato Non so da dove Mi manda a cacare E poi leggo Vale No Vale Uccidete tu Vai vai Ah bot Ti copro io Che cretino Madonna Che ti manda i messaggi in privato Non è vero Vale Non ci credere Tutto quello che dirà Può essere usato contro di lui Ricordatelo Non ci si può più fidare ormai Della gente E' inutile mi scrivi in privato Smetti o non mancare nulla Sono sul tetto questi Eh Mi arrivano i messaggini su whatsapp Non li leggo Vale Per sapere Che cosa vale Mi viene assoluta Oh Oh Che cazzo di chi? Che cazzo di kill Vale Non ti nascondo nulla Vale Mi può minacciare Come mi ha detto Ti segnalo la pagina Tolgo le salle Lì qua Ti mando tutto Più minaccia Peggio è Qui ho fatto litigare con Vanessa Lui mi deve litigare con te Anzi Tu devi litigare con me You know the rules Senza tua Ma cosa sono questi snitch Ma ragazzi Un po' di rispetto Ho lasciato i soldi allo shop Se lui è filantolato No allora Diciamo le cose come stanno Marius Se tu litighi con Vanessa Pienamente è colpa tua Grappolo attivo Ovvio Sempre colpamento Oh sì È lì Mi pare Sono un due No in realtà No Ti deve fare i cazzi Di due Dillo Vale Vale Dillo Vai a palè Con trepito e frittino Ce n'è uno lì al cannone Neitati i due Marius Se volessi Fare qualcosa Questo mi sarà per fare Posso parlare Se vale mi dai il via parlo Stai zitto Marius Stai zitto Marius Stai zitto Stai zitto Marius Stai zitto Io sono stunnato e morto Stai zitto Colpa di Marius Sempre colpa di Marius Stai zitto Stai zitto Stai zitto Guarda sto cazzo di edulice assurdo Stai zitto Non ti fai zitto Marius Non ti fai zitto Non ti fai zitto Vai in attenzio così Se non posso Mi fa più fili tre mezzo Dillo Potrei Tra noi tre Cosa Io sono il più forte Cosa Io sono il più forte Non so di cosa state parlando Però nel dubbio la butto lì Ecco Aldo ce l'ha fatto Ti stai accortando per farmi impazzire poi Ah onda dico me la verità Che il gas si avvicina Nuova zona sicura per voi Devo fare anche lui così C'è un soldato nemico Au Vado dietro E' sul tetto Guarda Vado sul tetto Guarda vado sul tetto Puglielo Avevi preso il loadout Si Aspetta allora Fuori 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 Un caccio integrale Ma mamma Fuori 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 Quindi mi stai dicendo che è tutta fortuna Va bene Va bene Fuori No ho sbagliato Anche patto Lo sono Davanti a testa Ciao Credo Non ho capito se... No, no, no! Ah, vabbè, vabbè. Io in tutto questo sono sempre senza munizioni. Uno sul suo cadavere. Il cadavere... Vieni, Vale. Sto morendo. No, Mario! No, Mario! Eh, ci ho provato. Allora... Pordio. Vieni. Ma che cazzo sto bug qua. Ma... Figa, che nervoso. Aspetta. Quanto vedete se lo prendo. Ok, non l'ho preso. Però ci ho provato. Che cazzo... Assiste. Pugio del culo. Pugio del culo. Non ne dai! Punti il canale così non ne dai! Puttana! Ah! Dove sopra di me? Rambo, sottetto della puttana! A me? Sì! Ma... Cazzo è! Cazzo è! Cazzo è! Cazzo è! Ah... Intanto tu carli! Alla nuova zona sicura! Cazzo in arrivo! A voi fai i snack! Guarda tutti i culi! E poi quella stava prende con me! Ma dove va andare, Mario? Prezi delle stazioni di acquisto... Vai, sono tre a terra! Tre a terra ne ho lasciato! Oh... Non so di... Padore! Sopra! Dietro! Ehhhhhhhh.... ciao 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 zato grazie per il like la finestra di ritornò sta per chiudo e azione pausa e l'effetto lo dicevano anche in matrix io non ho piastre ragazzi venite a farmi fare delle piastre per favore occhio che ce n'abbiamo uno dietro ragazzi ai container rosso io dove sono le mie piastre mi chiesto faccia di merda si ha mangiato le mie piastre ma io non ci credo io non sono dal microfono credo a lei brambo cosa oh non sei cazzo grazie mi sono usata come scudo dammi le mie piastre oh ma te le fanculo delle tue piastre pure guarda che sono così da mezzo game non lo so perchè me le rubate questa ah ok così mi f***o le tue corasse f***a mario ti giuro che ti tirerai una testata sul naso guarda ah sangue mio quando dici queste cose cioè è bello che fa ti lascio le piastre ok grazie se le f***e proprio davanti a me no ma io qui sta qui sta qui sta qui sta qui che ti riesce subito oriana grazie per il like io non capisco come questo botta pedali faccia sopravvivere no finalmente qualcosa di utile l'hai fatto mi hai fatto rinascere allora se non erro qua sotto dovrebbe essere della roba lasciami le piastre invece che sono senza io mannaggia a te quanta premurosità il nostro tetto intanto deve scendere da qualche parte io ho la maschera lui no io no e va verso sinistra sono io va vaffanculo gioco no la te fa allora è tunnel brambo per forza aspetta ha tirato uno sopra minchiazze c'ho culo ti pareva sei una merda con sta puzzola di merda agganci allora si è morto prima si siete tutti benvenuti in questa bellissima live bellissima eh ovviamente in bordo grazie per la condivisione come è stato mario si è stato mario a farci perdere ragazzi quale è la prima è stata a non rinascere questo è stato finire in the game sbagliato questo non ti assolve eh se votate tutti la stessa persona punti non ve ne da nessuno è normale che scurrile fish iddio caro tutta questa volgarità ciao bellissimo mutami un attimo non posso sono in caricamento f9 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 no non ce l'ho marco ma sei grazie per il fallo marius mutati tu hai ragione scusa hai ragione c'è questo qua c'è c'ha le scorreggio al posto del cervello che ogni tanto escono deve ricreare aria per farla circolare se no non non ce la fa sono lo zimbello delle tue live chi chi è che l'ha dentro ho comprato il prosciutto crudo arrivato a casa era cotto qua non ce n'è questa era era carina so che tu hai confidenza marco va bene un bacione a te tu non sai genna lui mi ha mandato la foto di una ragazza col culo a coppa uefa basta questa cosa del culo a coppa uefa da smegli fammi finire l'altro montaggio che c'ho io ce l'ho tutta a scioglio ma sono strontate sono strontate si vale sei sicuro vale si prendiamo il game qui sta sto game qui sta sto game abbiamo bo e tu hai la lobby allora se è vero aspetta quello qui allora se è vero sei vicino se è vero si condividi no neanche le scoreggie no ma infatti le scoreggie era un complimento davide gretebrelevi allora è inutile che gli scrivi a lui whatsapp perchè mi sta mandando 57.000 messaggi mario la smetti mario la smetti cioè ora di ora noi vogliamo snake superstar voglio snake in chat ma snake l'ha scritto per non dire altro ma chi sta capendo no non l'ho capito mi dissocio da quello che dice il mario e vabbè ma ah scusa non dovete ascoltare quando 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 no no ma ci sono 11 persone capito vabbè se lo dice lui che lo zimbello lui la deve smettere di mandarmi la foto dei culi delle persone e che lo posso anche denunciare e vabbè ti denuncio per diffamazione gli fai queste cose a dada cioè dopo quello dopo tutto quello che è successo a tu a dada gli fai questo a dada cosa sto sentendo dudu dada ma che cazzo dudu è ma dudu non mi senti nemico se mi mandano 70 aless marius dovresti essere più forte no dovresti saperlo dove sono nemici c'è no io ho specificato solo voi avete una confidenza una è un trollare genaco per me ma che cazzo sta merda di uomo cazzo era morto non lo devo lasciare vota per caffèuccio vale caffèuccio io sto soffrendo io sto soffrendo questo è l'inferno questo è l'inferno questo è l'inferno c'ho uomini e donne qua che sta cadendo mentre che gioco ha votato dieci mario dieci io non ho votato come vuoi io non ho votato mario si giù dada che cazzo c'è qui cazzo no cazzo 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 dìgalo cazzo è due però vale è vendicata sono tre se continua a comunicare così comunque a me probabilmente viene non lo so un coccolone a me sta venendo un infarto si un io credo di me qui sono che vuoi da me che mi stai rovinando tu l'hai voluto dobbiamo i soldi dobbiamo i soldi facciamo l'oddi l'oddi qua l'oddi qua mario mannaggia a te mannaggia a te mario mario hai rotto i coglioni mario aspeti muto rompici un cazzo dove sono i soldi guarda che ha lasciato i soldi grazie te lo ripeto ti muto così non che chi cazzo che devo parlare con la chat vaffanculo c'è sto giocando con maria de filippi io non sto giocando con un essere umano guarda guarda ti metto vaffanculo mi mi drought daw fantasy scal immagino cere and Sì, Baris, il problema non è Il problema è che non riesci a avviarne mezzo C'è uno qua Scarto come la merda, però c'è Ha cagato il cazzo questo Voglio vedere come Sei un fottuto camper Anzi, perché ci sei tu, l'ho lanciato la pianta Oddio Eh, non lo so, tutti abbiamo pezzi Quindi non vale, cioè Restituiscili Che cosa? Non è ancora ste challenge Guardate, no perché questa faccia di merda Poi fa le challenge su di me Dicendo, peggio più kill di Brando Ma che c'ha, ma che stupido Stanno facendo dei punti di canale per spammarmi Sti cazzo di alert Mi stanno facendo capire un cazzo Più devo ascoltare a te Ma giochiamo Giochiamo Basta Vaffanculo alla chat Oh, vaffanculo alla tua chat Oh, oh, oh Non t'azzardare, eh Non t'azzardare Tu ti permetti, eh No Siamo qua Grazie per il like Maleducaito Questo alerteo la strappo Giuro Dopo quella da 100 la strappo Tu mandala Snack, stai salvo Giuro, non rivelo nulla Però Non rivelo nulla Snack Puoi stare tranquillo Cancello pure Whatsapp Tranquillo Stiamo molto calmi Devi stare molto calmo Arrivo Stare molto calmo Arrivo che mi stanno minacciando via Whatsapp Ma Ma Giocare con Mares veramente È un'agonia È un'agonia È un'agonia Ci parli per 10 secondi 10 secondi 10 secondi Poi dice Torna subito E dammi muto Questa è Maleducazione pura Scostumato Cosa stai mangiando? Chi? O ti stai facendo Un drum Sì esatto Un drum Era il momento della chiusura Quella Ecchiomi Arrivare Eh vabbè Io mi ritengo offeso Quella è tornata ha detto torno subito Spiegami sta cosa Ma che sto facendo Ma non lo so In queste In questa ora e mezza di live Ho parlato con Mares Forse 30 secondi Il resto è stato Lui e lui che discute Per Per uomini e donne Per uomini e donne Perché qua c'è E deve fare Ecco Fa il cretino Esatto Vedo che hai capito Maria De Filippi Ah c'è caldo Guarda che non carica un cazzo A sto gioco di merda Caffeuccio Caffeuccio da pizza Vai spiega Caffeuccio Ma non lo so neanche io Non so niente Come stai Martina Può giocare a merda Sì Non so niente C'è Brambo Pranta 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 Dimmi dimmi Pranta Pranta Eh ditemi Dimmi Ok volevo sapere se ce l'avamo Che disagio Dove hai Sneccolo E' bello Sempre qua Sono al lavoro Non rivelo più nulla Vabbè Essendo a 500 chilometri Anzi a 400 Per 500 Per 500 stelle Rivelo qualsiasi cosa Vogliate sapere Ragazzi Misure No manco per 5.000 Misure Informazioni Anche per 100 bit A 476 chilometri Che ne sale A chi è il tuo albato In questo istante Attenzione Ehi fai vedere il solito caffettino E' una merda E' una merda Cafferuccio da Pisa E' una merda La coppola E' una merda Poi nel mio bar Non dovete andare più Io mai sono fidanzato Lo sappiamo Non mai L'abbiamo capito Da da Non dire di no Ma qua stanno tutti impazzendo Mario sei pazzo Da da Ventila Devo fare Non ho mica niente da nascondere No 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 Tu hai la nascondere Ho mai l'ho straffato Però lei mi ha mandato Gli dice Alla E io ho detto Se le mandi una Non io la do La rivelazione shock Non ci sarà Della busta ora Io speravo Una busta Ahm Forse c'è Piena di soldi Eh Potrebbe essere Un cito Chi Cosa Attattivo tutto Ti va Vai Ah adesso Adesso Almeno Riuscirà a rompere La barriera Delle 3 Chi Ma che io Ma ti hai fatto 5 kill Con la sound alert E questo Che che Non si è capito Un cazzo Nel mio Che pure senza audio Di gioco Sono stato Adesso Adesso le devi trasferire Quelli Non dai punti canale Ma dai beat Scusate Così Così li freghi tutti E lo faccio Stare gifo Scusate Mi metto Modellità Tra yarder Serio Va bene ragazzi No Quindi non mandate Sound alert Grazie Please Please Solo per Studiamo Non so Quelli Gente Questa paura Che succede amico Su di me Su di me Su di me Elisa e Edo Grazie per il like Ragazzi Edo con la condivisione I don't know what this is But It's kind of hot Restituisci Restituisci Perché siamo morti tutti E tre assieme Borsa Rimborsa Grazie per la condivisione Arriva un altro, arriva un altro Ah, non so che c'è gente Madonna è camper del cazzo Stanno stracamperando Hanno fatto un load di qua davanti Ma Mario è stato dove cazzo è andato Ah, è qua, l'ho visto Lo sciacallo Non c'ho trovato un puntino Eh, confermate perché mi sa che non riusciamo ad arrivare Ah, non c'è Sì, di me Su di me, ancora Qua, 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 la porta Oh, bravo Eh, 4 contro 1 gli ha detto Eh, l'ho fatto tutto il team, cazzo Eh, per forza gli abbiamo Eh, per quello dico, gli ho ammazzato il team Ci credo che eravamo 4 contro 1 Ma perché non... Su di me, su di me, su di me, alla scala Alla scala, alla scala, alla scala Alla scala Alla scala Qui, qui What? Per tanto? Non mi vedeva Mentre sono fatto Aspetta, aspetta Mario, se ti fai confermare hai vinto la sfida Sì, sì Dei tranquillo, la tartaruga vince Nooo, minchia, quella ferro di merda Su di me, su di me Ma che cazzo, non ci credo Nooo Nooo C'è, ha avuto culo qua però, eh Te lo dico Eh, io ho ammazzato Ho ammazzato due persone Anzi no, tre di un team Vado per confermare Quello che si sta autoressando È arrivato il tizio con l'elicottero Uccidermi Quindi, allora posso ritornare a parlare con la chat e sentirmi i miei sound L'accappatoio Mi sbottono pure il bottone del pantalone Marius Dimmi Sai con cosa spara un soldato appena uscito dalla doccia? Una minchiata L'accappatoio Ma io non la sapete Non la sapete A k L'accappatoio Lo so Eh Ma non la conoscevo Sì, te le si bannati Non so te le conosco Caminale, grazie per il forno Benvenuto Come andiamo? Io non ho parole Io non ti mando nulla La cena Ciao, Tracy Buona serata, buona cena Ma io Non si usa questo linguaggio, eh Guardi pure a me Ma quello si fa Si spamma con un punto esclamativo Snake Ci c'è me la palladessa Infatti devo mettere i ciucciani Bicchi Bicchi Un po' il carino Un po' questo con il grau con il streppet Ma non ci giocavi ai tempi con il streppet E' chiede E' chiede Cosa? 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 Beh, non è venuto Cosa? Oh, ma che reee Eeeh Eeeh Terun Eeeh E' terun Ahahahah Ahahahah Hanno fatto una brutta A tutta cosa Ah! No, non si affisce Giuro, giuro Dal sirento si sente Vai Dai, cosa cazzo sto vedendo Io non sono mandato non lo so Un po' Basta che Basta scherzare Scolami nel lancente Venco Bella bionda 36 km e poi ti fai portare il curriculum da solito caffettino e dalla spremutina perché ora c'è il tutto nuovo mattino e non saprà mai chi è ma tu queste cose te le inventi e siccome tu hai mandato dei challenge non le avrai non le avrai è buono che mi chiama zack ti prego mandati la missione l'ho cancellata solo ci fai dedicare no non mi interessa no devi soffrire ma io non mi permetto in questa discussione non voglio ne facer nulla c'è neon io ho letto una cosa che non dovevo leggere attacco non è come fortemente che ballo no 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 Oh Bacchia tu b***h, bella cheeta bella cheeta quello mi manda che ha un capello biondo vedi che è lui che provoca è una canzone non è una canzone non è una canzone avrà visto che sei in chat capito? e sei di far via tutto su di me sopra sopra arrivo eh sono morto tanto sarà mai un in più un in me ma raga va passato accanto comunque come stai no? va bene no minchia muoio pure io ma tu la data non la toghi ma minchia sei cornuto cornuto non si fa che? spiegate chi stai ma faccio andare alla finale vai state forse maniaco grazie per esserti fottuto tutta la mia roba grazie ah tutto tutto mi avete preso che schifo quello è marius quello è marius guarda che schifo mamma mia è proprio un ratto sono disgustata rato umano a fortale è non fortale per favore madonna mia è tutta non mi è vista hanno lanciato l'orello davo si guarda E' continuo, continuo, è niente che mi mandi messaggi WhatsApp, continuo, non mi disturbare. Se vale, mi lanciano. Cosa da scondere? Madonna se sono scandalosi questi comunque. Quello c'è anche morto. Ehi, Giuliano! Tutto bene? Ti saluta Giuliano. Sei benissimo chi è Giuliano, vero? Dimmi di sì. Con me parli? Sì. Salute. Come in tre? Ecco. Non sai mai che... Figura in merda, vai. Ok, a casa. Ok, l'abbiamo fatto. A posto. 4 e 4. Nel chilling faccio 100 kg, quanta e 3? Niente. Non ci puoi, ci puoi, ci puoi. Come stai Giuliano? Di te, di te. Su di me! Su di me, ragazzi! C'è mezzo del tato, capisci? C'è mezzo del tato, capisci? Ragazzi, c'è un altro team là. Eh, io c'ho Vodafone, che devo fa? Marius, chiudi quella cazzo di bocca. Io bene, io bene te. Vieni, vieni, vieni. Fa un caldo bestiale. Mi prendi? Mi prendi? Mi prendi? È caduta a mare! Che pirla! Che pirla! È caduta a mare! È caduta a mare! Traccato lì, dentro! Dove? Ah, ancora gente c'è! Sì, 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 sì. Ma vai mona! Senza piastra, eh! Io non di sopra. Qua davanti. Ma c'è... Brambo, no! Che c'è tiltato! Di più, manca poche scoppie, giuro! Dio caro, c'è Marius che mi baita da fa... Proprio... Proprio sento... Sento il suo... Il suo respiro sulla mia pelle Ogni volta che mi sta per baitare. Sento... Lo sento appiccicato al mio culo. No, 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 poi chi fa? Non so perché sto cazzo di clip... Non ci provare nemmeno, guarda! Bruto stronzo! Sono gli italiani, vero! Questi sono quelli italiani, tra l'altro. Ora la mettiamo, come tal? Marius! Marius! Dimmi! Ah, vai a chiudere sta cazzo di bocca! Veramente! Oh! Minchia! No, Mario! No, Mario! Aspetta, scusa! Io devo parlare! Cioè, mi muti! Mi muti! Sì, Mario! Sennò che gioco tutto il tempo mutato! Che cazzo! Ma scusa! Parliamo con le gente! Non ci mutiamo! Allora io canto e non mi muto! Ma almeno non cantare che mi... Guarda! 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 Guarda che cazzo stiamo facendo! Cioè, dobbiamo giocare con questo noi! Porca di quella puttana! Vediamo un po' cosa sta facendo Marius! È per i cazzi suoi! Zitto completamente! A parlare con la tua chat tutto il tempo! Lasciatemi cantare! Perché io... Ok, ho risolto ragazzi! Sto ZRG ho pensato di provare a usarlo! Vogliamo un rage kit! Colpa di Marius! Guardalo! Capito? Ha fatto prima lo sborone! Ho fatto più col di te! Bravo, bravo Marius! Ma va! Tappia u pesci! Guardate! No! Basta! Rimane mutato per me! Rimane mutato! Madonna! Ma la Dio! Lo tengo mutato! Me l'ha detto lui! Tienemi mutato! Volevo un attimo flexare un po'... Un po' di shot di cecchino! Ma niente! C'ho... C'ho quella che fa il cazzo suo! Tutto il tempo... Te... Tutto il tempo gli dico Giochiamo assieme! Tanto che non giochiamo! Gioca da solo lui! Parla con la sua chat Gioca da solo! Non fa un minimo di conversazione! Mario! Innanzitutto ti devi calmare! Mario! Minchia! Nervosismo! Mami! Te sei in vacanza o stai... Che stai facendo in sto periodo? Cosa c'ha il tizio lì? L'ho mutato! Non c'ho voglia di smutarmi e sentire le cagate che dice! Che stress... Che stress! Ragazzi! Che stress! Niente a vacanza! Ti spinge sempre! si? come sta procedendo? ho visto oggi sono in rete dck what? ma veramente fai? minchia gg ma ti stanno andando bene bene? cioè nel senso a parte i numeri che ho visto che sono stai facendo dei numeri assurdi e sono stracontento per te ma minchia pure follower? madonna cosa c'è? con chi ce l'hai? scusami stasera si festeggia ma chi è sta gente strana? ma cosa scrivi in chat? no ma io sono stracontento perchè sei comunque una di quelle persone che sta portando dei contenuti un pochino più diversi e che stanno funzionando no finalmente è mutato chiudica la cazzo non scrivere nemmeno in chat va solo adesso hai messo like vale? guarda io non lo so sto giocando con degli infami sto giocando sono tutti maleducatissimi quello lì che non si può conversare con lui che deve parlare con la chat capito? ho ancora se notato in chat pensi che questo ti esoneri dall'accaziatone? guarda te cioè io sto giocando da solo triste e solo sei una brutta persona io? io non l'ho mai nascosto di essere una brutta persona eh non ho mai detto di essere una brava persona il primo luogo eh quelli che scopiazzano eh ho capito ho capito quello che dici a me a me a me a me a me fanno girare il cazzo perchè in questo momento si stanno creando troppe copie e mi fanno girare un sacco di coglioni perchè già allora in un certo senso ci sta perchè stiamo portando tutti i contenuti però cioè ragazzi non potete portare lo stretto che il tenuto perchè quella persona porta bene si ho anche capito cosa intendi e sono chiaramente sono stra d'accordo con te allora Mario ti ho capito ti ho colto ma non è vero hai un'altra opportunità per fare la differenza guarda fareste anche stra bene a dare una tantrum un giorno o l'altro stia bestia e niente sentite allora confettini avevano da auto Nooo! 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 Un'arma scarica! Che possiamo farci? Stai giocando con vale mod? Si, me ne sto pentendo Ma no! Madonna quanto siete easy Posso indignarmi? Io ho provato a portare contenuti diversi ma i contenuti che io porterei non sono adatti alla piattaforma Ma hanno detto invece che hai portato Stray Io l'ho portato ieri sera e... Tanta roba Prima che ti arrabbi non lo sapevo che l'avevi portata Quitti cosa? Oh c'è uno che sta arrivando da te Due due Quindi l'arma Una terra Ok ok ci siamo ci siamo Ok ok ci siamo ci siamo Questa è la tropeione Dov'è la mia percentuale? Ok Nooo! Sul tato sul tato Ho croccato uno Dai Ma non ci credo Ho preso un'arma senza munizioni Ma stai... Su di me Su di me Non ci credo Ah... Invivibile Non potete capire Sei una brutta persona Mario Voi non potete capire quanto caldo ti fa qua Oh tetto di control occupato c'è gente C'è un team No Mario No Mario E' una novità è giusto che lo si porta al live Viene da ridere quando esco giochi di anni anni fa Ma... Gia spuntano ovunque Sì quella roba lì è Quella roba lì ma... Mi ha fatto salire un nervoso a me Perché capisci che proprio la gente non guarda in faccia a nessuno Cioè non è che dici... Per dire ti hanno fatto un complimento durante la live E hanno detto Ah cavoli bel gioco queste cose così No niente da un momento all'altro li vedi spuntare fuori Da nulla E uno cosa può fare? Aiuto Si può solo incazzare ognuno cosa del genere Dura poco? Dici che non... Io sono... Sono ancora a metà tipo Cioè nel senso... Sono ancora nella città morta Qui ne sono Oh E' no Autores Dura cinque ore Mi sono sentito anche dire io volevo giocarci da tempo Ecco qua la roba lì Una roba super cringe da dire Volevo giocarci da tempo Ho visto che l'hai portato tu e funzionato Questo che volevi dire Ci sono tre Uno sta scendendo la mano Ha detto qualche cosa in una lingua un po' strano Non ho ben compreso Uno sta salendo Aiuto Arrivo E' un bel numero cinque ore Non è troppo, non è troppo poco Ti dirò comunque graficamente mi aspettavo un pelo di più Non di più perché comunque Non tanto di più perché Non gioco abbastanza Ma io rido perché è l'unica Oli? Sì Tre, due, uno Via E' giusto però Ma guarda Ma guarda 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 Stupiti grafica nel trailer Ci sono rimasto male Sì Però dai L'ambientazione nel suo Aveva un po' perché Aveva un perché Con chi ce l'hai? Io? Ma Mi potete? Qua davanti E' salito Ho preso la corda L'ambientazione sì Sì è stupenda Però è sì Fa stata una delusione Ma scusami Avete fatto tutta la maschera? No Credo l'abbiano preso gli avversari Lì Sì Io che mario Sento che ce l'avevamo già Sì Sì L'ambientazione Ma che cazzo Questi camper Sopra la casa C'è niente Camper Dio il cazzo Sì Sì Guarda l'interno Sì 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 Infatti secondo me E' un capolavoro Per alcuni motivi Graficamente Non tanto Perché è molto semplice A livello di 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 ambientazione Assurdo Quello si Dio 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 Mi sbanni? Sì Sbanno Brutta faccia di merda Mi hai bannato? Mi hai bannato? Mi hai bannato? Ma che bannato? Devevi di qua Basta L'ho mutato di nuovo Basta Le meccaniche del gioco sono bellissime E' molto semplice Però efficiente Proprio perché è semplice E' molto lineare Secondo me Perché Mario Con un gameplay semplice Riesce A farti esplorare dove vuole lui Quindi Molto molto Bello Ha finito di dire cazzate? Sì Hai finito? Se non le dice più le cazzate Allora Basta cazzate Però sono riuscita a fatti Mario Mario sta su Sì sì E' di là Basta che scrivi il nome così come ce l'ha in gioco Ah raga Rintorno ai quartetti c'è Non c'è più Tezzetti Ma come? Giuro La giorno playlist hanno fatto raga E' uscito prima Ma dai che cagata però L'hanno tenuto un giorno Giuliano viene aperto una partita Che tanto io faccio l'ultima e stacco in teoria Ma intanto stavo parlando con Mitrex di alcuni giochi Quindi era un po' distratto comunque Era anche per non disturbare te Oh No No Shapo Come dice Cassano Shapo No Aggiornamento No Sei uscito dai basta No Molto bello Ma che cazzo Niente non ce l'ho io No no vi guardo Va bene va bene Il processore scheda video hai? Ho un i7 di dodicesima generazione E un RTX 3080 Da 12 giga Questo è il mio pc 32 giga di ram E via Questo pc qua L'ho ideato proprio con Cioè l'ho fatto con l'idea che doveva essere un overkill Cioè dovevo proprio fare di tutto Non lo sto usando minimamente Ma anche perchè adesso comunque non voglio sforzarlo troppo con alcuni lavori Per il caldo Va bene va bene Mitrex Mi sa che devo aggiornare Mi sa che devo aggiornare Facciamo una bella roba Vediamo un attimo il gioco velocemente Facciamo un attimo così Il gioco avrà fatto? Dovrà fare aggiornamenti? Spero proprio di no perchè Io ho dei miei coglioni Che chiede ogni volta di aggiornare e mi aggiunge aggiornamenti che non esistono Perchè quello che sono aggiornamenti vuoti Aggiornamento playlist e mi tocca riavviare il gioco per dire Cioè Non ce la fai? Più che altro perchè fanno un aggiornamento playlist ai 7 di sera Cioè Che vuol dire? Che cazzo c'entra? Alle 7 di sera E fai un aggiornamento così Perchè ti va Bene o male Questo ciuffo qua guarda Pip Oh ciao Esther Grazie per il like Come stai? Quando il gioco vuole Riavvialo anche te Marius Io l'ho dovuto riavviare perchè mi dava che la sessione non era valida la tua Come stai Esther? Ciao Ciao Uh Che bene Che bene Mi fa piacere il gioco O comunque fa un caldo astuto Io Sto lentamente Perdendo vista Queste cose così Non riesco più a distinguere i colori per colpa del caldo In questo momento In questo momento sto avendo tipo le allucinazioni dovute al calore Quindi Bene Molto bene Se ci fosse la sezione piscine qua Se ci fosse la sezione piscine qua sarei con una piscinetta quella della Chicco che compri a tipo 5 euro La piazzo là dietro e gioco gioco così E' così che mi metterai a giocare in questo momento Una piscinetta No ciao qua poi Io adesso probabilmente se vado fuori sul balcone rompo un uovo nemmeno faccio a tempo di rompere l'uovo che è già cotto Capisci Cioè siamo siamo arrivati a questo livello di calore Maschius ti ha invitato a una partita Oddio Chi è sto bot? Come che è sto bot? Come? C'è il pro bot Ci metti un bicchini due pezzi Fai mille spect Si lo so Infatti devo vedere se è possibile farlo anche qua Facebook non pensi Si puoi sempre vedere Vabbè ormai Vabbè non commenti Vabbè la vostra piattaforma è diventato Holyfans praticamente eh Allora Un paracanale piattaforma perchè la vostra è tutto tranne che piattaforma Non iniziamo Il nostro è un social vabbè è normale Vai a cagare te quella piattaforma è merda Rosso fuoco mi raccomando Metto pure la parrucca estera allora Mario io ti odio perchè che combinato? Che combinato? Ma Marius dimmi un po' stasera vuoi fare qualcosa o no? No stasera no Stasera non impegni Va bene va bene Sono organizzato già Sabato E' venerdì oggi comunque Venerdì e sabato già sono organizzato Non litigare e fate i bravi No no Marius cerca sempre di provocare Cerca sempre di farmi incazzare Ragazzi voi vedete le mie live Cioè a maggior parte quanto impiegherò a facilitare Brambo? Cioè quello è il titolo Mi diverto così Sì ma tanto Non ha capito che La prima volta che gli vedo gli spacco il naso a metà Dopo una No perchè lui vuole portare altri contenuti capito? Io invece voglio portare code che faccia la notte Qua Io volevo fare qualche ora di Far Cry in Coop Però Marius deve ancora fare la prima missione tutorial Cioè vorrei dire Addirittura Sì sì Ieri sera dovevamo fare la notturna All'una e mezza va via fasto Giuro sei stato in amorevole Volevo prendere il modo e me la lanciare E' pure maleducato Marius capisci Perchè è maleducato? Si si tantissimo Povero Marius botto Lasciatemi cantare No però quella delle caramelle è stata epica Quella la clip la metto su tiktok Le caramelle cosa è successo? Vale Vabbè di che Vale che mi manda i sound? C'è il gioco così E faccio quattordine Violenza e amore Poi non devo dire sono sprecato Ma è lui che mi ama Io Io provo odio Puro in questo momento Non ti sento aspetto Vale ti odio Se volete mi unisco per una partenza Se vuoi c'è Esther Per farsi una partita Che tanto io ne faccio qualcuna Tranquilla Non ti sento Giuro che non ti sento Eh vabbè Intanto accendi Esther E aggiungimi pure E qua Marius non sente quando gli dico le cose Ma le faccio una cosa M'hai sentito quello che ti ho detto? Tu mandi tutti gli alerts che vuoi li mando pure io Io faccio più kill unite di voi due Con tutti gli alerts La faccio una cosa Marius se vuoi c'è la quarta persona Come? Non ce l'ho lì di Ah no no fai porti un chifo No qua no 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 dico su rebirth Che fa? Andiamo su rebirth se vuoi Che fa? Abbiamo il quarto Si Aspetta Te lo Te lo Te lo dico io a voce Brambo 17 Hashtag 8 3 5 4 2 1 8 3 9 5 4 2 1 Devo ripetermi Brambo 17 Hashtag Aspetta un attimo che mi hanno fatto sentire un cavolo Ce la faccio 8 3 Ok lo scrivo dai Vediamo se me lo fa scrivere anche da qua Dammi un attimo 3 9 5 4 2 Ma che forse non me lo scrive perché Basta ho finito Purtroppo Scritto in teoria Ok, eccolo Per sbaglio stavo per cliccare su blocca Perché stavo guardando le varie cose Ho sentito l'istinto Di cliccare per sbagliare su blocca Vediamo un attimo Così Beh Non mi soggiungi Per me puoi guardarle Che problema c'è Invitata Finito ti prego E chi è? Salve Salve Buon pomeriggio Devo ottenere un po' di decoro Ti sei salvato Devo ottenere un po' di decoro Marius Questa parola non si abbina a te Te lo posso assicurare Non ti sento Non ti sento Non ti sento Aspetta vediamo se sono finito Tu e la parola del coro siete su un altro pianeta Come no Per Natale del coro No non ci credo Ester se vuoi sopravvivere Se vuoi sopravvivere fai una roba Tasto destro su Marius Attiva disattiva audio Non ti preoccupare Marius Perché c'è il segnalino Perché vedo il segnalino sul personaggio di Di chiedere di Vale Io vedo disattiva i sound Vale C'è il segnalino C'è il mio personaggio Vale Ho sprecato tutti i cosi Tutti i code points Alla facciamo domenica prossima Metto lunedì Mi prendo lunedì Vale ti odio Sappialo Sappialo Cos'è fare Finito ti prego L'avevo tipo 8 mila Assume L'ultimo ci abbassa Non sta vedendo Non sta vedendo Che foto Vale Ma c'è il bugiardo Ma c'è il bugiardo Che sei Guarda lui mi manda la foto di Whatsapp Mandami la foto Che è quello che ti ha scritto E leggere sta minaccia Ma tu come mi fermi metti a minacciare la Dudu Sì 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 Lascia stare a lungo C'è Dudu e Dabba Sì 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 A quanto cazzo finger Dove 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 Sotto testo Contro il Contro il C'è Mario sfissato con una parola simile quindi diceva sempre quello Ti sono fissato io No dai dai lo chiamiamo sempre sotto testo Sotto contro il piccolo Ho un nemico dietro non arrivo a è star se lui nostra ultima possibilità Damiano, grazie per il follow Un bacino a te Il bombardamento di chi è? Ah non è nostro, perfetto E io sono bloccato sul tetto Ma te l'ho detto? Tetto piccolo, tetto piccolo Dai c'è uno qua, lo stesso Dietro Marius, me ne hai portato uno appresso Eh bravo lui Ma vaffanculo No, vabbè me ne faccio un'altra Perché questa è proprio Chi è l'oste, io? Sì vero? I don't know Ma già la miseria, mi sono andato a beccare a quello dietro e davanti Mi ha detto Che guardare L'importante è che poi sia solo Ma vale vero e confermi Perché non ci credo tanta snack Confermi Che il luogo guardare poi lo dovesse solo tuo Certo Non lo vuoi condividere con me? Cioè deve essere solo tuo Io per dire mi divido tra Brambo Dake e Foggi Non puoi condividere con me Dake Grazie Esther Tanto lui fa la donna Sappialo Ah Esther Quindi io sono la seconda scelta Ho letto sul gruppo Eh? No, no, no Assolutamente E' entrato nel mio party Matt Quindi lo volevo rinvitare Ma non c'era qui È magia Ti ho visto online e ho detto Bah mi faccio l'illusio Mamma mia che voglia Volevi giocare col bot Dille la verità No Non è lui il bot Capito Deve 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 sentirsi importante Lasciamolo sentirsi importante Mario se io sarò sempre toxic con te Sappilo Lo sai benissimo Io sarò sempre toxic con te Lo sai benissimo Sarò sempre toxic con te Aspetta eh Gioco di merda Sta bloccando il gioco Sto fixando un attimo il gioco Brutto stronzo Ma tu pezzo di botta a pedale con il triciclo a litio Che cazzo hai detto? Ho detto Ti lascio sentirti un po' importante Non ho capito che parlate in due cazzo Quello parla che si dà malapena Ok Allora Silvi Sì Ho detto Ti lascio crederti importante Ma quale è importante Io sono proposto Ho fatto la finta E ho detto che sto botta a te Poi ho detto Proposto Sì Era quella la battuta Vabbè Inutile che parli Che c'è quella infamone Del gioco Che c'è una ragiale Facci tua È di quella Che ti finisce Ogni pomeriggio e mattina Mario Vale Io ti difendo Vale Mario Mario Ma chiedermi la cazzo di bocca Io le disattivo Li disattivo Sì grazie per favore Oh yes Snake continua Snake continua Snake Dio Snake Viala Che peninanti Ah vedi che volessi nervosita Smettila Smettila Continua Ho la busta nera Ho la busta nera Capacanta Capacanta Aiuto Perché sono sempre in mezzo a queste situazioni Io del cazzo Carta santa Che ci prova con quella della spremuta Marius La sbella che ti do Ti farà cantare Non ti sento Non ti sento E lui Che cacchio vuole Non ti sento Bot di merda Allora Hai detto merda L'ho sentito Quindi ci sei Questa l'ho sentito Questa l'ha sentita Sì infatti Per merda Manda gli alle Siamo dai Vabbè Ma come la faccio sclerare Neanche l'arresto ora Ti faccio vedere Facciamolo Mi vendico con Dada Tranquillo E Dudu Gada Fa un UAP Prendete quella roba No Ho sbagliato di nuovo Ma Capita Oh arriva una macchina Ma come arriva una macchina Ma Che vuol dire questo Ma chi è questo Un hub Ma l'hai visto anche te laggare Marius No Sinceramente mi è passato addosso Sono tutto qua Cazzo Ah living living Non l'avevo visto Io che cazzo guardo L'ho craccato sopra Uno sta proprio su Non è storgente nulla No Non è storgente nulla Sta sopra uno Non c'è Brambo Si si mi sa che è sceso Infatti Ah l'ho visto Ma vai mona Sì 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 No Uno è sul tetto davanti a te vale E' un altro team Non sei che arriva E' all living Senti i passi Brambo sei solo Attento la macchina è sceso E' morto E' morto Quello della macchina No Senti i passi Arrivano altri in volo Qui c'è un T-Sano Qua ce n'è uno Aiuto No Bebeking No Grazie per il like Che fa il du Che fa il du Che dobbia Sono già in Dobbia Ho già in Dobbia L'uomo Hai un'uomo Il fattamento per voi Ragazzi Di me c'è un team Vaffanculo 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 Mi sono venuto Ne roba Due Si chiama non lo da No 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 Ah Mi ha rotto il cazzo Mi ha rotto il cazzo Perché mi spara Perché mi spara Incredibile 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 Cioè sono scappato da sopra Mi sono ritrovato sopra e sotto Incredibile Che delusione E la busta nera non ce l'hai E la busta nera non l'avrai Che sta finito Arrego Tom Vieni qua Vieni qua Ma è meglio Ma è meglio Ma è meglio Salutarti Vieni Ciao Guarda Guarda questo Quanto cazzo è grande Sto gatto qua Eh Guarda un bacio No 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 Hai un caldo assurdo E provi anche ad abbracciarmi Va bene A farti coccolare Sei uno psicopatico di gatto Fattelo dire Hai 8000 Mille Calore addosso Attenzione Potremmo avere Bebe King In partita Chi è Bebe King? È il Uno del gruppo di cita Bebe Dai Bebe Ma è bravo No ma è gentilissimo L'unica volta che mi ha trovato Mi ha fatto Ma credimi Lo so Mi ha fatto pure il follow Una volta per scherzare con Joe E se mi stai per armi Non l'ha mai fatto Ci siamo beccati una volta Dice blocca Oh ma che lagata Ma chi è? Chi è tranquillo Non ci becchiamo Però Se sei il lobby Per favore Vattene Nel suo posto Ma vatti Sei il lobby tranquillo Pillare A meno che disattivi tutto È vero Noi abbiamo a Vale la cheater Quindi proprio Ah è vero Vale cosa hai scaricato tu Vale La buona E poi Bellissima sta canzone È quella che ho messo io Su punto esclamativo Cheat Un altro mese di noi Oh Marian come sei carino Un bacetto a te Buttolino Buttolino mio Quando si si bello Marian Ma io non stavo minimamente parlando con Mario Stavo parlando con Stavo parlando con Mario Sì Non di queste manie di protagonismo Mi mandi a me i baci Lo so Sono moruto Aiuto Minchia Scassami sto faccia del cazzo Ti prego Facci la pompa Toccami tutto Vale Toccami tutto M'hanno dato sfogo Ma riesce a colpirmi Te l'ho detto Non lo so Vediamo un po' L'ho detto Via via Scappa Eh ho capito Non è un comando Cioè Stiamo qui L'ho detto Non è un'imitazione Via via Scappa Pex vai via Hai zitto Pex Cosa do faccio 150 Vada l'esempina Dove andate se adesso faccio una roba tipo E prendo qualcuno Se vuoi dire che se assente non puoi rispondere Vale Sto trovando le scuse Vado Vado Video chiamato Video chiamata Vale Video chiamata Consiglio Io consiglio Video chiamata E vai sul sicuro Quisci che non vengo seduto Ci sarà quella della Ci sarà quella della ragazza Che va sul bancone Della campagna E invece sono giù Sono giù Sanno che sono qui Aiuto Che colore sei? Basta Seri Arancione Sul tetto davanti a me Atterrato Atterrato Raga raga Ok Scusi Giapponese Occhio 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 a questo col nome Madonna Qua penso di averne messo una a terra Lo sono mostro io Col bombi Però non ne sono Eh niente Abbiamo capito Era lobby giusto Abbiamo capito Vai a pulire il bar Vai Vai Che puttano Cosa vuoi Aiuto Buoni Stata è buoni No no Io l'ho fatta eh Non risponde Magari occupate Video chiamata Vale Perché non risponde La video chiamata La ragazza Se ne è appena andata Se ne è appena andata La ragazza Marius Chiudi quella cazza di bocca Che sta facendo Metalobby qua da solo Aiuto Realmente Dattemi una mano Quattro kill metalobby D'ambo Vai in buono Siamo Siamo Una base rossa Ah ma non abbiamo lo shop Qua Arbor Ovviamente abbandonando Un branco Sì Non importa Eh se la faccio Si è fatto Stalla lobby Vai lascia Sì Ti saluta Snake Mario Ciao Snake Saluto mia bella pionda Davanti a me c'è un team Lo shop Ciao 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 Che prende qua sto Ma come cacchio è entrato là dentro Lo doubt Che problema è Sto sprecato Dove di fare il lanciato? Ora amica Dove è bravo? Al sera Diminica Dentro una finestrina E' sceso All'altro One shot Non ci credo Non ci credo Non c'è più Non c'è più Giovanni grazie per il like Sium ragazzi Sium Dove sono i miei soldi? Dov'è il mio contratto? Finito Finito Cioè ragazzi Credo di non aver mai fatto Un'azione più bella di questa Nella mia vita proprio Zanzara Guarda come Madonna mia Cioè Dopo 20 game Ha fatto 10 kill Guarda come Scodinzola Guarda come scodinzola No Ma Mario Se devi vederti Quella scena Madonna Quando ho guardato Io eri a 4 Infatti Ma tra l'altro Ero a 4 Avevo già ucciso Un team Praticamente da solo Eh Fusco Grazie per lei Siamo dal giocatore Ah ok Pensavo in partita Ho detto Ciao Bebe Come ciao Bebe In partita Mi diceva Abbiamo che eri in partita Ho detto No Bebe Beh bravo Direi molto meglio del fratello Vedi Marco ha già capito tutto Già il fatto che dice Molto meglio del fratello Allora Allora E' che è lui Che è lui che mi ha condiviso Quindi Tuo fratello Di gente Ovvio Te l'avevo detto Qui c'è gente Fatto Dai l'hai fatto tu Ok Meno male Eh ho notato qualcuno Che sparava Mi sono spaventatissimo Dio lo vale Dio lo vale No snake Mi chiedi che ho combinato Tutto tiltale Brambo Poi ti faccio rivederlo Ha mutato Ce lo meritavo Brambo Quando è che non filta Mi dai i soldi Mi faccio l'autoress Grazie Oh sei feggio di Vanessa Mi chiedi sempre soldi Viro uav Infatti l'ho chiesto se E one shot Quello dietro Marius Prima io sono morto Qua piovono i nemici Ma che cazzo Sopra di me No Si sta succedendo Sul tetto Due Si Voi che appunto Siete sul tetto Me la rischio Io salgo su Stanno camperando Sti facce di merda Camper del cazzo Figa Brambo tilta Ma quando Mi è successo Calorio Grazie Vuolete vederlo Ti staccio Eh grazie per il follow Calogero No 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 Anna grazie per il like Porca puzzola È sceso Tanti bacenti Una live ragazzi L'ultima partita Non mi va di fatto Vai lo stai pronto Il camper Cioè io non voglio Non voglio concludere Questa partita Con una lose Ve lo dico È proprio una No 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 Ce la portiamo a win Ci la portiamo a win Va È l'ultimo del team Raga Che cazzo Coma ma per colmo Bebe vero di te stavamo guardando Prenditi tutto Vale Tanti rincio tra 6 secondi Quindi premiti tutto Prenditi me la parte Mi ha rubato tutto Di me? No Di Bebe Noo Ecco è una punizione adesso Che camper di merda Guarda te figa Che uomo del cazzo Collo d'out Collo d'out Che camper Figa Te Sei uscito dal buco del culo Fattelo dire No 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 de chi il camperano No de chi il camperano Se ho campato Se faccio 54 Merda umana Non marzo No no Ciao ciao Cioè Popo non mi va giù Sta cosa Non mi va giù Essere ucciso dal camper Del boccione Figa Sì tu Perché quello che era Campato a prison Si doveva mettere Nel nostre armi Cioè cosa più Fammi non esiste Ascolta Dopo Dopo quella Quella situazione lì Che sono uscito Non so neanche io come Ciao 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 Buona serata ragazzi Ciao dai Stacco pure io dai Sì sì Adesso stacco pure io Ciao vale Ciao 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 Eh niente è stata Una giornata produttiva Tanto calore Tanto hotness Da parte del Buon Brambo Ragazzi oggi abbiamo Giocato full tilted Si sentiva nell'aria Che questo calore Mi avrebbe dato la testa E così è stato Quindi dai Dai Quelli che sono adesso In live Se non l'aveste fatto Ragazzi ricordatevi Di lasciare il follow Di fare una condivisione Bellissima Che almeno aiuta A crescere il canale E se non l'aveste fatto E foste interessati La sub Attenzione La sub Da bene ragazzi Dai ci salutiamo qui Quindi Noi ci vediamo prossimamente con una prossima live Un bacio Un abbraccio Dal vostro Brambo Stasera forse vado in live con Stray Quel gioco lì molto interessante e carino del gatto cuccioso Bravo Marco che hai ascoltato Ha lasciato il follow Vedi ragazzi Funziona Se chiedi gentilmente le cose arrivano Quindi Fate bravi Ci sentiamo più tardi Con la live di Stray Ciao core Ciao a tutti